Night vision, visione notturna. Il primo pensiero va sicuramente a immagini militari, la tecnologia night vision deriva da quello. È stata impiegata per la prima volta quasi 80 anni fa, durante la seconda guerra mondiale. Nel corso degli anni la tecnologia si è evoluta, è arrivata anche nel mondo dell'auto. Debutta all'inizio del 2000 su diversi modelli. Oggi la tecnologia ancora più evoluta riesce a individuare esseri viventi tra umani e animali fino alla soglia dei 200 metri di distanza di fronte all'auto. Una tecnologia che Peugeot ha scelto di adottare per alcuni modelli della propria gamma e che permette di alzare ancora più il livello di sicurezza offerto durante la guida. Una tecnologia che sfrutta appieno quello che è il Peugeot e-cockpit grazie alla presenza di un quadro strumenti totalmente digitale sul quale vengono proiettate le immagini termografiche di ciò che succede davanti all'auto. Il sistema night vision di Peugeot è dotato infatti di una camera termografica in grado di individuare in maniera distinta esseri viventi che si trovano di fronte alla vettura stessa, di fianco o proprio in traiettoria, tra esseri umani ed esseri animali. È una tecnologia che alza ancora più l'asticella di ciò che è lecito ormai aspettarsi in termini di sicurezza in un prodotto come 3.800, 5.800 ma anche nell'ammiraglia 508 che lo offrono in esclusiva sul mercato. È una tecnologia che poi oltretutto permette di elevare la sicurezza perché individua due diverse categorie di pericolo. Una categoria di pericolo di tipo giallo quando l'ostacolo potenziale, l'essere vivente si trova ai lati della traiettoria del veicolo stesso oppure un alert di tipo rosso più importante, più urgente, qualora l'ostacolo si trovasse perfettamente in traiettoria con il mezzo. In questo caso compare anche un alert sonoro e soprattutto compare anche un'icona che restituisce la categoria di essere vivente tra essere umano o essere animale. Il sistema funziona tra 0 e 160 km orari di velocità massima con temperature di funzionamento di meno 30 e più 28 e poi soprattutto è a richiesta su quattro modelli della casa del Leone per 1000 euro. È una tecnologia molto facile da utilizzare e appunto come dicevo prima la si può sfruttare grazie al quadro strumenti totalmente digitali del Peugeot e cockpit quindi con il vantaggio di avere le immagini perfettamente in linea con quella che è la visione della strada.